io chiedo un tac e sceltini il pump e il game non mi piace il? il pump è troppo lento piuttosto mi riesco alla mitraglietta in questi casi quanto mi manca la vecchia tech 9 quanto cazzo mi manca la tech 9 come andava? non so che non mi ricordo la tech 9 era tipo la mitraglietta che sta adesso ok ho trovato mini e tac io mini e sto caccia al pump non venire a romper me double pump c'è tutta gente col pump indovena io che c'ho apri la cesta c'ho pure lo scaracca marty ma il culo di sti qua pump scaracca a me stanno a menardo ecco una terra però c'è il pump doppio scaracca sto qua morti due? 4 kg oh ca ma sto qua da dove sbuca intanto è sbucato era tutto chiuso ma buo ma buo ma buo è tua cara ambella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come stai? Oh, mini. Guarda che belli che sono. Guarda come sono fieri. Che belli de mamma. Dov'era sei? Eh, verso Tilted. Quindi tocca mettere auto run. Guarda come stai. Mare? No? Fanni! Cosa hanno fatto questi? La casetta di Minecraft Eh infatti lo stavo dicendo io Ma devono muoversi loro Allora nel senso Mh mh Mara nel basso No Allora la safe è efficiente Non rischio la so Allora 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 Grazie, vedete? Ok, la safe diciamo che è vicina Dopo riproviamo a fare a trovarci in uno di uno e poi riniziamo se non ci troviamo facciamo due di nuovo Ah, ci sto, ci sto Sounds good Chi è? No, no, no Grazie a tutti. 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 Yeah. E...